Il sindaco, siamo pronti? Vi ricordo a tutti che oggi sono diventate 23.000 grazie alle ultime 900, un bel pacco e le consegniamo al sindaco ricordando che più di 15.000 di queste firme sono su carta, perché a questa campagna di disinformazione nata sui social con ingenti fondi da Roma noi rispondiamo con le firme sul territorio. Un augurio dal sindaco. Buongiorno e grazie a tutti per essere qui a nome della comunità, della città di Roseto degli Abruzzi che per le vie istituzionali, quelle che ovviamente per cui il popolo ci ha delegati a rappresentare, sono qui con tutti i capigruppo, il Presidente del Consiglio e il capigruppo di maggioranza e di minoranza che hanno scelto di intraprendere questa battaglia. La chiarezza è nel titolo per chi ha letto la stampa di oggi. Per quanto ci riguarda, l'ho detto due anni fa, lo dico oggi, alle stesse persone, c'è una regola che è il PAN, che nei tempi giusti, a mio avviso, abbiamo consegnato nelle mani di Regione Abruzzo, che aveva la grande responsabilità di portarlo con noi a termine. Ci siamo riusciti. Oggi Regione Abruzzo deve approvare un PAN su una riserva esistente, quindi deve cancellare questo emendamento. Grazie.